Sono estremamente contento per Germain Defoe, è un attaccante prolifico per il Tottenham e la sua nazionale. Ha il fiuto del gol, lo ha sempre avuto. E non è che riesca a massimizzare le occasioni che gli diamo, se le crea spesso dal nulla. Gli altri creano molto per lui e lui continua a dimostrare quale grande centravanti sia. Sono felice per lui. C'era chi lo criticava non per le sue qualità, ma perché spesso riteneva che fosse un po' troppo solo davanti. Ma io credo che sia come unica punta, oppure con De Vajor al fianco, lui sappia rendersi molto molto pericoloso. Sono contento anche della prestazione, perché i ragazzi ci hanno messo impegno, responsabilità e concentrazione. Sanno che abbiamo lavorato duro e che si meritano questa prima vittoria. Li ho visti appena entrati in campo che volevano mettere le cose a posto e questo mi fa piacere. Abbiamo conseguito un bel risultato, espresso un ottimo gioco, quindi veniamo via dal Reading con tanta soddisfazione. È molto piaciuto vedere. Abbiamo riuscito a mixare il risultato con la performance e in fine siamo arrivati dal Reading molto soddisfatto.